Torna con la sua 29esima edizione dal 4 luglio al 30 agosto, Concerti sotto le stelle Pescara International Music Festival, un appuntamento classico dell'estate pescarese, una manifestazione che appartiene al patrimonio culturale della città e che presenta un cartellone di 16 appuntamenti musicali all'Aurum, all'Auditorium Petruzzi e al Porto Turistico Marina di Pescara, ma è questa la novità per il 2022, prevede anche rilevanti escursioni artistiche che vanno dalla poesia al teatro e fino anche a interessare i testi d'Annunziani. Per la 29esima edizione di Concerti sotto le stelle il Comune di Pescara continua a sostenere questo festival in cui troviamo varie culture, vari generi musicali, abbiamo anche delle incursioni teatrali di poesia, insomma c'è un calendario di tanta qualità e soprattutto di tanta passione da parte di coloro che si esibiranno che darà sicuramente lustro alla città di Pescara perché ci riuscirà a far andare in uno spazio internazionale per godere di bella musica sotto le stelle. L'appuntamento più importante sicuramente è quello del 20 agosto al Porto Turistico con Sarah Jane Morris, si tratta di un ritorno, è stata lei a chiederci di tornare a pescare soprattutto in questo scenario che è sempre molto particolare, direi magico. Va menzionato sicuramente il concerto del 6 di luglio all'Aurum, anche in questo caso nel bellissimo piazzale Michelucci, ci sarà D'Annunzio in jazz, che è una produzione di Danilo Proia e direi che si tratta anche in questo caso di uno spettacolo molto interessante che vuole mettere insieme la poesia di D'Annunzio con la musica, sarà in gran parte musica originale. Insomma direi che sono tutti appuntamenti di assoluto rilievo, mi piace concludere dicendo che abbiamo dato molto spazio anche ai musicisti abruzzesi e ai tanti giovani che ci chiedono di partecipare e che hanno ovviamente necessità di questi spazi, di questi momenti.